Con il congresso nazionale alle porte è di nuovo guerra tra bande all'interno del già commissariato Partito Democratico della Campania, soprattutto dopo l'ennesimo scandalo tesseramento che si è verificato a Caserta e in alcuni comuni della sua provincia. Vista la tempesta alle porte ha pensato bene di dimettersi da commissario straordinario del partito regionale Francesco Boccia, che ha definito impraticabile il campo della politica in casa PD nella nostra regione. Penso che questo congresso segna l'inizio di una fase politica nuova, penso che si sia esaurito un ciclo ovunque e chi pensa che la politica nel 2023 dopo la sconfitta delle elezioni politiche possa andare avanti con meccanismi di 15 anni fa o di 20 anni fa sbaglia. Ecco perché penso che sia un errore anche in Campania litigare su un certo numero di scritti più o meno veri. Chi li ha fatti iscrivere ha sbagliato. Cioè non è un mistero che in alcuni territori ci sono più iscritti di quanta gente votata alle elezioni politiche ed è evidente che chi ha fatto iscrivere quelle persone lì ha fatto un errore proprio di valutazione della storia politica. Tra i comuni finiti sotto i riflettori Sessa Aurunca dove si è registrato un boom di richieste di tessere online circa 1050 a fronte di 1200 voti ottenuti dal partito alle ultime politiche ed è proprio sulla cittadina casertana che ha dato i Natali al presidente del consiglio regionale della campagna Gennaro Oliviero sostenitore della mozione Bonaccini al congresso che Francesco Boccia lui per la mozione Schlein ha scagliato il dardo avvelenato. Il presidente Oliviero è noto diciamo non ha proprio fatto la campagna elettorale per le elezioni politiche per il partito democratico ma io mi occuperò il presidente Oliviero in campagna congressuale nei prossimi giorni. Oggi lascio la sua vicenda nelle mani della commissione congresso e penso che quello che è successo alla casetta sia molto grave.